gentili telespettatori buona serata il tribunale dei ministri archivia l'inchiesta sulla nave bloccata a lampedusa per 11 giorni i migranti poi sbarcarono a malta quindi il tribunale dei ministri infatti ha deciso di archiviare il procedimento sulla vicenda della alan kurdi la nave della ong tedesca si però ci sono altre indagini contro matteo salvini indagato per la vicenda open arms quindi ce n'è una in una viene scagionato e nell'altra la denuncia è proprio di qualche giorno fa la questione risale al 3 aprile scorso quando l'imbarcazione soccorse 64 migranti a bordo di un gommone a largo della libia e poi puntò verso l'italia scusate e in particolare verso le coste di lampedusa dopo giorni di braccio di ferro con il governo italiano gli attivisti alla fine si arresero e puntarono su malta dove il 13 aprile i naufraghi poterono sbarcare per essere distribuiti tra germania francia lussemburgo e portogallo grazie a un accordo con l'unione europea in quel momento ci fu salvini che rifiutò di aprire i porti italiani e cominciò l'indagine per abuso d'ufficio e rifiuti di atti d'ufficio in questa un'inchiesta in cui finì indagato pure il prefetto matteo pientedosi capo del gabinetto del viminale ma ora il tribunale dei ministri ha archiviato tutto su richiesta della procura di roma intanto matteo salvini commenta una buona notizia ogni tanto un tribunale finalmente riconosce che bloccare gli sbarchi non autorizzati di immigrati non è reato sono curioso di vedere a questo punto cosa decideranno le altre procure è una volta tornato al governo rifarò esattamente le stesse cose salvini infatti prende il caso della open arms la nave bloccata per 19 giorni a largo di lampedusa con 164 migranti a bordo le ipotesi di reato formalizzate dalla procura di agrigento sono di sequestro di persona e omissione dati d'ufficio proprio come accadde l'anno scorso per la nave 18 il famoso caso della nave 18 dove il movimento 5 stelle chiese alla piattaforma rossò se dovevano autorizzare a procedere magistrati o no e la piattaforma rossò rimase dalla parte di matteo salvini e quindi si arenò il il processo dei magistrati il fascicolo ora è sul tavolo del procuratore di palermo francesco lo voi che farà le sue valutazioni e dentro 15 giorni lo invierà al tribunale dei ministri intanto un barcone carico di immigrati partiti illegalmente dalle coste del nord africa si è ribaltato mentre veniva scortato dalle motovedette della guardia costiera italiane il naufragio è avvenuto a meno di un miglio da lampedusa e le 143 persone finite in mare sono state immediatamente recuperate e già la sinistra parte all'attacco per chiedere l'immediata riapertura dei porti e dice matteo orfini del pd per carità è appassionante il confronto tra grillo e zingaretti sul futuro ma non è che potremmo intanto occuparci del presente assegnare un porto sicuro le tre navi che lo chiedono da giorni smettiamola di comportarci come salvini ma attenzione la lamorgese proprio su rai 3 ha fatto capire che i porti sono aperti che si apriranno a tutte le ong in arrivo e ce ne sono tre di cui una addirittura nuova una nuova ong spagnola galvanizzata dal governo italiano che apre i porti indiscreditamente e proprio così si sta favorendo anche la la nascita di nuove ong spagnola che non ci pensa proprio a tornare in spagna perché in spagna c'è il sequestro della nave un milione di multa e c'è il carcere quello che dovrebbe esserci in italia ma avete visto che con carola racchetti il carcere non c'è stato la multa è stata bassissima e la nave è stata sequestrata e poi ridata quindi l'italia è il bentegodi rispetto alla spagna quindi queste ong spagnole non ci pensano proprio a tornare in spagna si fermano davanti all'italia ed esigono di aprire i porti pensate che considerazione che hanno di noi ma mi ricordo proprio uno di questi armatori uno di questi fondatori di ong che diceva no no io non torno in spagna da sanchez meglio farsi confiscare o sequestrare la nave da salvini questo la dice tutta sul cattivone di salvini che non è per niente temuto e ci prendono pure in giro mentre la sinistra parla di un feroce dittatore fascista all'estero ci ridono praticamente dietro ma torniamo a parlare del naufragio davanti a lampedusa ieri pomeriggio un cittadino ha segnalato alla guardia costiera di lampedusa la presenza di un barcone in difficoltà a meno di un miglio dalla costa immediatamente ha riferito l'agenzia agi la stessa guardia costiera sono state inviate sul posto quattro motovedette e allertati un elicottero e un aereo della guardia costiera di catania una volta giunte sul posto le motovedette hanno individuato l'imbarcazione che non misurava più di una decina di metri le cattive condizioni meteorologiche l'hanno fatta capovolgere non appena i mezzi della marina sono arrivati sul posto a quel punto gli equipaggi delle motovedette hanno immediatamente recuperato i 143 migranti che erano caduti in mare ma probabilmente arrivano altre imbarcazioni la gente si sposta e la imbarcazione è si è capovolta nonostante c'erano anche delle brutte condizioni subito dopo l'intervento della guardia costiera che ha chiesto l'intervento anche di un pattugliatore di due motovedette della guardia di finanza i 143 immigrati recuperati in mare sono stati portati al porto di lampedusa per continuare le ricerche si è alzato in volo anche un aereo frontex ed è stato allertato anche un mezzo aereo della marina militare fanno sapere assicurando che attualmente non sono stati avvistati corpi privi di vita anche se si stanno ancora cercando una quindicina di dispersi le operazioni sono state rese molto complicate dalle condizioni meteorologiche pessime e il leader della lega matteo salvini punta il dito contro il premier giuseppe conte e i giallorossi il governo dei porti riaperti ha sulla coscienza ogni morto e disperso frutto delle nuove partenze perché matteo salvini dice questo con il suo con la sua presenza al ministero dell'interno voi sapete che gli sbarchi erano diminuiti tra l'ottanta e il novanta per cento ma gli sbarchi diminuiti voleva dire anche che le partenze erano diminuite gli sbarchi diminuiti e matematicamente anche i morti diminuiti questo è stato una conseguenza non voluta ma comunque piacevolmente vista da salvini che dice la conseguenza delle meno partenze meno arrivi è anche quella di meno morti con la gestione di salvini del viminale ci sono stati circa 5.000 morti in meno addirittura dalla germania un'associazione aveva proposto il premio nobel per la pace per matteo salvini per aver salvato 5.000 vite in mare nonostante la chiesa parte della chiesa italiana e la gran parte della sinistra e centrosinistra italiana definisce salvini un criminale che uccide le persone in mare nulla di più falso è assolutamente l'opposto perché questo aver fermato le ong per 10 15 20 giorni fuori da lampedusa ha impedito che quelle ong fossero davanti le coste libiche il sequestro di molte ong ha impedito che quelle ong non fossero davanti la costa libica voi direte cosa significa significa che voi sapete le ong sono schierate davanti la libia poche miglia gli scafisti lo sanno perché conoscono le loro non si vedono ad occhio nudo è non si vedono ad occhio nudo gli scafisti sanno tramite internet le coordinate di queste ong dove si trovano quindi loro partono con il loro carico di persone che gli pagano 1500 euro a testa i risparmi di più di una vita fanno qualche miglio poca benzina sulla sulla loro imbarcazione vanno direttamente davanti l'ong che felicissimi li fanno salire li portano con un'imbarcazione più grande sicura in italia dei taxi del mare questa definizione taxi del mare li aveva con l'aveva coniata luigi di maio li aveva chiamati taxi del mare non è una mia definizione e così avendo salvini bloccato tutte queste ong che non erano davanti la libia partivano molto meno imbarcazioni di scafisti perché gli scafisti quando le persone gli chiedevano garanzia la sicurezza di arrivare in europa gli mostravano che loro sapevano le coordinate col cellulare li portavano direttamente davanti l'ong quindi un viaggio quasi al 100 per cento garantito quasi sicuro e quindi e voi direte ma le ong sono solo il 10 per cento attenzione aver eliminato gran parte delle ong durante la gestione di salvini averle bloccate ha comportato meno partenze meno fiducia anche perché si sapeva perché attenzione nella costa nord dell'africa vedono tutte le televisioni italiane io sono stato in tunisia 6 7 8 volte come turista in vacanza negli anni 90 e lì guardavano tutti le televisioni italiane sapevano perfettamente l'italiano quindi attenzione che le persone che sono in libia in tunisia vedono i telegiornali ascoltano della nostra politica sanno tutto vedono le nostre trasmissioni sapevano che c'erano i porti chiusi che le ong non erano davanti la libia che era difficile entrare che venivano respinti quindi meno partenze di conseguenza meno arrivi con ong e senza ong e meno morti guardate caso che arriva il nuovo governo e dal giorno dopo gli sbarchi le partenze i morti triplicano ed è proprio questo che dice matteo salvini ve lo ripeto dice il governo dei porti riaperti ha sulla coscienza ogni morto e disperso frutto delle nuove partenze così vi ho spiegato quello che intendeva salvini che è un qualcosa di estremamente reale estremamente reale cioè il governo che diceva salvini assassino sta attuando una politica migratoria che quell'accusa gliela fa ricadere addosso ma loro chiaramente non lo dicono i giornali compiacenti non lo dicono i programmi televisivi la maggior parte compiacenti non lo dicono gli stessi politici lo negano anzi non hanno mai detto una sola parola su questo che dice salvini mai detto una sola parola anche perché lo sanno perfettamente quello che sta succedendo intanto vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale nella community trovate tanti sondaggi a cui potete rispondere e potete anche commentare siamo anche su facebook tele italia notizie dove trovate tutti gli stessi video che sono su youtube li potete condividere tranquillamente con chiunque e ovunque in internet e fuori da internet vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buona giornata arrivederci